Papa Francesco ha incontrato venerdì mattina il Presidente dell'Angola, Edoardo Dos Santos. Si è parlato del progetto di accordo bilaterale riguardante lo statuto giuridico della Chiesa Cattolica e non si è mancato di fare riferimento all'apporto che la Chiesa stessa offre al Paese con le sue istituzioni di carattere educativo e sanitario. Si è parlato anche di lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali, di sviluppo integrale della persona, riconciliazione, giustizia e pace, con particolare attenzione per le diverse situazioni di conflitto che interessano il continente africano. Grazie a tutti.